Nella sala consigliare del comune di Crotone è stata consegnata la targa della professionalità 2024 alla giornalista Giussi Regalino, voto storico dell'informazione. L'evento è stato organizzato da Rotari in una sala gremita di amici, colleghi e autorità locali. Ricevere un premio nella tua città, soprattutto un premio per la professionalità, è importante perché vuol dire che ho seminato, che ho lavorato con amore per questa città e si è capito tutto questo. Quindi devo ringraziare il Rotari per questa attenzione nei miei confronti. Ti ripeto, sono molto emozionata, quindi sono abituata io a fare le interviste e questa volta sono io ad essere intervistata e chiaramente c'è un attimo anche di emozione. Tanti anni di professione hai vissuto e soprattutto hai raccontato 30-40 anni di Crotone. Quali sono gli episodi o i momenti che ricordi con maggiore affetto? Sono stato il primo direttore responsabile di una testata donna in Calabria, ma io ho vissuto quelli che sono stati i momenti più importanti per Crotone, dai fuochi dell'Enica, alle alluvioni, a tante di quelle situazioni che sono immerse nel corso degli anni. La mia storia è fatta di questo, raccontare Crotone, ma non solo per questo, perché io amo Crotone, l'ho sempre amata e cerco sempre di far emergere anche il positivo. Il positivo è la cultura, è la socialità e soprattutto la voglia di sentirci una comunità, una rete. Il premio a Giusti Regalini è un po' anche il premio all'emittente per la quale da tanti anni lavoro. Sì, sicuramente. Io, la nostra azienda, poi figurati, i miei figli sono tutti giornalisti. La prima televisione a Crotone è nata con Donato, mio marito, i miei fratelli Claudio e Fabio, Mario Giglio e Pino Cavallo, e così anche la prima radio a Crotone. Allora, di fronte a questo, è un premio che condivido e che mi fa sicuramente piacere, perché continuiamo ad essere una televisione che ha dato e continuerà a dare a questo nostro territorio. Da anni, Giusti Regalino, attraverso l'Unicef, è impegnata anche nel sociale. L'ho sempre fatto, lo faccio, lo faccio senza metterlo in evidenza, perché quando si opera nel sociale, quando si fa volontariato, non c'è necessità di dirlo. Bisogna solo farlo e soprattutto ricordarsi che c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi e quindi quelle persone vanno aiutate. Il significato della targa della professionalità lo spiega il presidente del Rotary, Gianluca Romano. Alla 35esima edizione, un premio istituito nel 1989 dal compianto Pasquale Scalise, che premia chi si è contraddistinto durante la propria carriera nella nostra città, dispensando non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista sociale. Un aspetto molto esentito da parte del Rotary, visto che noi ci occupiamo, mettiamo a disposizione le nostre competenze per il territorio, soprattutto nel sociale.